Loro hanno resistito e hanno aperto la strada anche per noi, quella banda che l'abbiamo vista anche in questi giorni, che da una parte fa i sorrisi, regala le cravate e dall'altra parte pugnala le spalle. Noi dobbiamo essere assolutamente, fortemente a fianco di quel popolo perché serve anche a noi, non abbiamo il compito di andare in giro per il paese a far capire che la battaglia degli lavoratori greci, del popolo greco è la nostra battaglia, è un primo compito da domani, da dopodomani e abbiamo anche un altro compito di fare come in Grecia, cioè oggi c'è la possibilità di costruire non solo la solidarietà internazionalista assolutamente necessaria ma abbiamo la necessità per noi e per aiutare il popolo greco di costruire anche qui una mobilitazione, una lotta. Abbiamo visto nell'autunno lotte anche importanti, grandi e bene, ripartiamo di lì, è il modo migliore per esprimere la nostra solidarietà al popolo greco per costruire un'alternativa non solo laggiù ma qui in Italia e in tutta Europa.